Il campo basso con un uomo in meno fa un secondo tempo straordinario, perché? Perché mi aveva giocato da squadra, diciamo, ci siamo uniti, abbiamo sudato su ogni pallone, ci siamo andati in una mano soprattutto, quindi alla fine è risultato fuori il vero valore di questa squadra. Penso che ti rincresce praticamente aver involontariamente causato l'infortunio di Pignataro. Che cosa è successo? La dinamica? No, la dinamica credo che io ero, diciamo, di faccia al pallone, quindi alla fine io ero più avanti a lui, perché lui poi ha rincontrato un uomo ed era, diciamo, lateralmente. Io sono andato incontro alla palla, andando incontro alla palla ho preso la palla, poi cadendo ho preso, lui ha messo pure lui il piede, quindi alla fine poi andando a terra forse avrà, o forse io avrò preso la sua gamba. Poi è stata una frazione di secondo, non so che cosa è successo, però mi dispiace, infatti diciamo che ho il magone sullo stomaco. Il segreto di questo campopasso, di questo più undici sulla seconda, che è un abisso, è proprio anche non prendere gollo, perché è davvero una difesa imperforabile contro la Montitauni, davvero avete preso qualsiasi pallone, non avete concesso un'occasione all'avversario. No, vabbè, il segreto, quando si vincono i campionati non bisogna prendere gollo, poi davanti abbiamo gente che fanno gol in qualsiasi momento, quindi l'importante è non prendere, poi davanti se la vedono loro. Noi siamo consapevoli che davanti abbiamo un attacco, un centrocampo che fanno la differenza in questa categoria, quindi alla fine noi dobbiamo fare sempre il nostro lavoro. Nel calcio ci sta chi fa il geometra e chi fa il moratore, noi dietro facciamo sempre il nostro dovere e il nostro obiettivo è quello di non prendere gol. Grazie. Grazie.